Francisco Goya è uno dei più grandi artisti di un'epoca difficile, un'epoca di passaggio, di transizione, beh si potrebbe dire tutte le epoche lo sono, ma è raro trovare un periodo della storia che abbia conosciuto dei cambiamenti così drastici, così profondi come il passaggio tra il 7 e l'800, quando l'intera Europa viene investita dal ciclone di Napoleone, personaggio che prima viene esaltato come grande rivoluzionario liberatore di popoli e poi viene denigrato come tiranno sanguinario nel giro di pochissimi anni, fino poi a dare vita alla restaurazione dopo la caduta di Napoleone a Waterloo. Goya, dicevo, è un artista longevo, ha una vita lunga ma anche una carriera molto lunga che gli consente di osservare con uno sguardo disincantato tutti gli avvenimenti della sua epoca ed ha una posizione molto particolare. Goya è il pittore di corte dei re di Spagna, è un artista amato e ricercato soprattutto per i suoi ritratti, è un uomo di profonde passioni e di grande sensualità, insomma un personaggio di grande vitalità, di grande interesse e molto complesso da affrontare. Al centro della sua produzione si collocano questi due dipinti, due dipinti apparentemente identici anche se qualcuno addirittura ha sospettato che si tratti di due ragazze diverse. In realtà si tratta di due opere che nascono una sopra l'altra. La versione della maia, maia in spagnolo vuol dire ragazza, la maia vestita serviva pudicamente per coprire come se fosse un coperchio, quella sottostante appunto dove invece questa ragazza compare completamente nuda. Da una parte il tema della venere distesa della ragazza nuda appartiene ad una lunga tradizione visiva che inizia con Giorgione e Tiziano, si prolunga lungo il 600 e il 700 coinvolgendo tra l'altro in Spagna lo stesso Velázquez. Per cui Goya è consapevolmente legato ad una tradizione iconografica. Dall'altra parte però noi vediamo qui Goya esercitare in modo pungente e fresco quella sua capacità di osservazione non solo dell'aspetto delle persone o degli oggetti che rappresenta, ma anche della loro anima. Infatti lo sguardo vivace puntato verso di noi, di questa ragazza, sia nella versione vestita che nella versione nuda, ci coinvolge, ci attira, ci invita ad una interazione con il personaggio molto più diretto rispetto ai precedenti dei secoli andati. Goya insomma si colloca sul crinale di un passaggio tra una consapevole e amata tradizione artistica di cui certamente si sente l'erede e dall'altra parte però un rinnovamento, un rinnovamento anche dal punto di vista della stesura. Goya utilizza delle pennellate staccate, rapide, veloci, rinuncia ad un tratto di contorno molto preciso. Il confronto con David nella stessa epoca ci fa proprio toccare con mano da una parte David, un artista che desidera rimanere legato all'accademia, dall'altra parte Goya, un artista che invece si apre ad una osservazione più immediata, più fresca, diretta e tradotta in pittura in un tratto più veloce nei confronti della realtà.